ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a parlare di openhab openhab lo avrà nominato spesso nelle recensioni precedenti per integrazioni con sistemi domotici o comunque nei precedenti articoli oltre a IFTTT che vedremo più avanti e openhab cos'è un aggregatore praticamente di sistemi domotici diciamo tra virgolette anche non domotici tipo ad esempio la fronius è un marchio di fotovoltaico praticamente oppure non so bluetooth bluetooth non è non è un sistema domotico ma semplicemente sappiamo benissimo è una tecnologia che appunto si chiama bluetooth poi abbiamo il sistema Bose quindi abbiamo tanti sistemini che possono far parte comunque di un'automazione domestica o comunque di un qualcosa che richiami un sistemino diciamo quasi domotico comunque anche domotico in sé che mettono a disposizione questi sistemi delle API quindi dei pacchetti applicativi che si possono integrare appunto con le altre tecnologie le altre tecnologie appunto possono essere anche delle piattaforme come quella di openhab openhab quindi cosa fa come vediamo è un sistema un software un sistema operativo diciamo domotico micro sistema operativo domotico che se vogliamo tradurlo proprio ai minimi termini che mira appunto ad aggregare tante tecnologie tanti sistemi in un'unica piattaforma appunto openhab qui openhab ci mostra subito a pieno schermo questa immagine qua questo è un Raspberry Pi un micro computer che si può comprare tranquillamente su Amazon tra i 50 e gli 80 euro poi va chiuso da un case diciamo va appunto richiuso si può anche tenere comunque così aperto questo non ce lo fanno vedere gli faccio vedere adesso il volo cos'è un Raspberry Pi eccolo qua ora siamo arrivati alla versione 3 come vediamo sono delle schedine e quelli qua che hanno appunto dei case per chiudersi ma principalmente sono dei micro computer con una porta usb e una porta hdmi per un monitor un jack per l'alimentazione una porta lan 4 porta usb e internamente dovrebbe avere anche la rete l'antennina wifi per connettersi alla rete wifi tutto questo poi viene richiuso da da un case o ci sono anche dei micro monitor che vengono installati su di esso appunto touchscreen per completarlo magari senza doverlo attaccare a dei monitor esterni anche perché la scheda video che all'interno praticamente nulla quindi quindi vediamo che con 36 euro la schedina sd per dargli un po di memoria perché va inserita una schedina micro sd per dargli un po di memoria e come vediamo qua addirittura non so cosa hanno messo dei banchi aggiuntivi non so cosa sia comunque lo si può richiudere come un nintendo lo si può richiudere come si vuole diciamo è tutto lì e ci sono eccoli qua come vediamo dei video che vi spiegano principalmente cosa potete fare in questi raspberry comunque non c'è non è soltanto obbligato scusate mi sto un po perdendo in questi computerini qua potete installare quello che volete non per forza solo openhab anche raspberry ha il suo sistema operativo proprietario anche lui mirato a sistemi diciamo domotici che veniva programmati e a modo suo però oggi non ne parliamo anche perché io non mi sono mai addentrato non mi sono mai incuriosito ecco da questo sistema operativo quindi a tutt'ora non lo conosco mi piace essere subito chiaro comunque piccola parentesi loro consigliano di installarlo appunto in un computerino a sé stante dai da mettere nell'impianto collegarlo tramite la porta lang o tramite wifi all'impianto per farlo interagire con gli dispositivi che abbiamo a casa quindi ti dicono appunto che non ha bisogno di un cloud non c'è bisogno di abbonamenti però loro ti offrono un loro cloud appunto riconoscendo la versione di openhab che avete installato vi da diciamo un accesso da remoto per configurare il vostro impianto anche se non siete fisicamente connessi alla rete del vostro impianto come vediamo queste sono delle stringhe di codice perché appunto almeno fino alle versioni precedenti di quella di adesso ma anche adesso serve comunque conoscere un po di di codice che ti che ti propongono loro quindi ti aiutano abbastanza a scriverli sinceramente non mi sono neanche tanto interessato perché per l'integrazione di impianti knx quindi io principalmente mi interesso del sistema del protocollo knx e per accendere le lampadine attualmente la versione diciamo desktop non desktop diciamo l'interfaccia web che ti viene proposta da openhab che vedremo tra un po e vi consente appunto di evitare di scendere a questo livello di scrittura anche per fortuna eh vabbè comunque adesso vi faccio vedere il resto mi trattengo un po perché sennò e come dicono qua abbiamo più di ogni things diciamo sarebbe things vediamo come ce la viene trarotta eccola qua le cose diciamo l'internet delle cose internet of things no ecco quindi ci sono mille cose tra virgolette e supportate no e partiamo da ovviamente in ordine alfabetico da a cui passiamo per tutte amazon dash putton addirittura e abbiamo un po di 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 marchi che mettono a disposizione un po di integrazione con openhab addirittura anche le lampadine philips you ai cloud di apple si sinceramente essendo un utente apple non capisco cosa più di tanto può interessare cloud con openhab anche perché ci sono dei dati un po delicati con le cloud di apple quindi vabbè e poi arriviamo al nostro knx che viene nominato viene riportato il logo però purtroppo come vedremo possiamo inviare comandi di on off ma quando vogliamo qualcosa di più di più spinto come la termoregolazione o tant'altro la cosa lascia un po mi lascia un po dubbioso infatti openhab l'ho usato tanto per l'integrazione con quello che vediamo qui sotto homekit essendo un utente apple per integrare un impianto kpnx con apple quindi con l'applicazione casa che trovate dentro i dispositivi iphone ipad e ora anche dentro i mac openhab può farvi tranquillamente da ponte diciamo no comunque come vediamo abbiamo tante anche mac os loro dicono perché puoi installarlo sul sul mac ovviamente e via così comunque abbiamo tante 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 versioni andiamo subito a vedere quelle che ci interessa a noi knx perché appunto il blog è centrato sul knx purtroppo perché l'unico protocollo domatico che conosco e come vediamo abbiamo i dati dell'ip gateway quindi dentro l'impianto dovete avere un gateway knx ip quindi un tipo una ip o un dicevis o quante ne volete no dove appunto dovrete mettere l'indirizzo fisico no del indirizzamento appunto nell'impianto knx del gateway knx la porta 3671 sempre quella che richiede l'interfaccia ip knx e boh è basso le solite cose e avete anche la porta seriale se volete quindi potete non usare la porta ip ma la porta seriale ma penso non usa più nessuno e poi abbiamo ogni singolo device quindi ogni singola cosa dovrà avere un indirizzo individuale no e buon fetiche se servono poi abbiamo nei secondi per contattare il dispositivo e buon poi appunto abbiamo i vari famosi data point di knx che si collegano agli indirizzi di gruppo no quindi come vediamo il data point 1001 quindi è uno switch normale come può essere la posizione assoluta di un dimmar 5001 e per abbassare e aumentare e diminuire il dimmaraggio e il data point 3007 quindi dovrebbe essere questo il quattro bit non sbaglio mi ricordo un byte e un bit questo discorso per le tapparelle siamo appunto vabbè quello che fanno le tapparelle poi abbiamo i contatti siamo sempre andato a point mille quindi un bit e il data point di tipo numero quindi data point 9001 quindi a temperatura e poi abbiamo canali tipo string quindi data point 16001 appunto una stringa in più potete inviare la data di oggi questi sono ecco quei i principali data point che potete vedere infatti mancano gli scenari e la temperatura come vediamo è soltanto un valore per leggere una temperatura però manca la modalità hwac lo scenario appunto non viene neanche nominato e principalmente abbiamo tapparelle luci e dati ecco tutto lì come vedete date time stream control finisce lì dopo adesso non ho ancora capito vi dico la verità perché viste le poche opzioni per il knx che vengono resi disponibili da openhab lo sto anche un po abbandonando però comunque c'è mi viene richiesto da tante persone che conosco quello che so e io metto a disposizione quello che ho capito quello che conosco di openhab poi più avanti se scoprirò delle funzioni più interessanti qualcosa che mi va di condividere con voi vi porterò davanti vi porterò un altro video e ve le mostrerò quindi come vediamo la configurazione la configurazione di un indirizzo di gruppo per openhab è questo qua bisogna scrivere config aprire le virgolette indicare il data point inserire l'indirizzo di gruppo per l'invio del comando mettere più il simbolo minore per inserire l'indirizzo di gruppo della ricezione dello stato del comando e basta poi ci può essere anche un secondo indirizzo di gruppo per un secondo stato qui ci sono alcuni esempi dove appunto andando a scrivere richiamando il tings il bridge eccolo qua viene richiamato l'indirizzo ep in questo caso l'interfaccia ip presa in esame con ovviamente la sua porta vabbè vediamo tutti i dati normali che richiede openhab più l'indirizzo fisico dell'interfaccia ip poi abbiamo un device con un indirizzo fisico 123 che mette a disposizione ecco qua un device generico mette a disposizione una luce una finestra un contatto di una porta una temperatura un dimmer anche qua un messaggio quindi un dato string è la data ma come vediamo vengono messi qua indirizzo di gruppo della luce viene messo il primo valore è quello della comando poi aggiungendo più e simbolo di minore l'indirizzo di gruppo dello stato stessa cosa vale per la tapparella in questo caso quindi abbiamo il comando su e giù che in questo caso il suo attuatore da un secondo indirizzo di gruppo di di stato da quello che vedo e in più abbiamo lo stop e la posizione assoluta va bene poi cominciamo a avere i contatti che quindi per indicare che un contatto viene richiamato il data point è l'indirizzo di stato quindi abbiamo un singolo di minore per chiamare lo stato la lettura dello stesso discorso per la temperatura viene richiamato il data point 2001 è messo lo stato e così via no per non addormentarci a poi appunto ci sono questi famosi items che sono appunto le come dirvi sono le 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 dispositivi veri e propri non quelli che voi dopo andrete a comandare come proposto questa forma di items e quindi abbiamo la la luce dove appunto dobbiamo richiamare il il canale del che abbiamo usato appunto per accedervi quindi l'interfaccia ip e richiamare appunto il nome a cui è stato dato che in in questo caso demo switch come vediamo demo switch ce l'abbiamo demo switch che quindi abbiamo il mezzo in cui noi riusciamo ad accedere al dispositivo quindi il bridge che sarebbe questo qua bridge eccolo qua bridge e il generic quindi il nome generico che è stato dato demo switch ora come ve la presenta così open up vi fa sembrare che programmare in open up ci voglia un secolo in realtà io che in questo caso soltanto quattro cinque o sei punti luce in questo caso con due dimmer due canali dimmerati ci sta i dieci minuti a configurare delle luci il problema subentra quando volete cominciare a integrare scenario o termorizzazioni perché come vediamo non ci sono qui abbiamo dimmer switch dimmer switch loro penso penso quelli di open up abbiano soltanto luci nel loro e loro impianti in più come vediamo la figata è questa qua non ne possiamo in questo caso inserire le lampadine philips hue no e integrarle in unica interfaccia questo è il vantaggio quindi abbiamo più tecnologie e in un'unica interfaccia comunque tornando all'open hub vediamo se torniamo da qua fammi vedere i marchi fammi vedere che sono stati premiati fanno vedere appunto che questa community è molto se sta crescendo ecco mettiamola così ci sono dei corsi è ovviamente basata su 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 linux ed è molto come dire è molto aperta no quindi sicuramente crescerà speriamo che crescerà anche nel settore knx perché ultimamente pare che si stia limitando i sistemi poi wifi plug and play compri anche su amazon come vediamo quando vedere l'integrazione con google google home che tra l'altro non viene nominata qua cioè voi non vedete tra le mille cose principali il marchio google vedete soltanto il chromecast di google però come sistemi domotici vedete soltanto dei principali sistemi operativi per gli smartphone quindi apple e android troviamo soltanto home kit non compare scritto google home perché ho scoperto configurandolo che una volta inserito inseriti i tag per far riconoscere a un kit di apple il il dispositivo i things chiamati quindi le luci vengono messi appunto dei tag che vi farò vedere e cosa succede che questi tag li vede anche google quindi google ha copiato tra virgolette i tag che usa home kit quindi tramite questi tag potrete tranquillamente integrare google home anche con il vostro impianto domotico kx tramite appunto l'espositivo google home assistente di google eccetera eccetera oltre a quello di apple vabbè mi sono dilungato un po' però vediamo quanto siamo arrivati abbiamo parlato ho parlato per circa 20 minuti non abbiamo fatto nulla vabbè però vi ho detto circa com'è la situazione ora una volta una volta capito cos'è openhab possiamo andare a scaricare possiamo scegliere un pacchetto loro ti danno il pacchetto per raspberry pi il pacchetto per mac il pacchetto per windows il pacchetto per linux poi ci sono anche i docker non so cosa siano e pine a 64 che sarà un altro micro computer probabilmente poi ci sono i tre versioni gli snapshot che sarebbero delle versioni diciamo in beta il test anche qua per testarlo e le versioni stabili che sono quelle garantite appunto come stabilità del sistema bene una volta scaricato qua ti fanno vedere anche delle guide ogni versione ha la sua guida quindi se ne usiamo quello raspberry pi che è quello che vi consiglio dovrete tranquillamente scaricare la versione che vi manda github github per chi non lo conoscesse è un sito dove tanti sviluppatori tanti programmatori mettono a disposizione il proprio software una specie di forum per una specie di sviluppatore ma non c'è proprio un facebook diciamo un sito dove si possono caricare dei file e qua troviamo appunto le versioni di la versione per raspberry pi dove appunto il team di openhab va a caricare come vediamo qua il proprio software potete anche scaricare la versione zippata vi parte il download vedete leggerissimo e questa versione è quella che dopo vi ho installato sul sul raspberry potete anche comunque seguite la guida perché se no questo video durerà due giorni non è nulla di difficile potete anche scaricarvi non so se avete mac o windows scaricarvi la versione per mac già parte il download questa è un pochino più pesante 65 mega e dopo all'interno troverete una guida che vi dirà come fare per installarla all'interno del mac tenete presente che se usate mac, linux o windows dove andrà installato questa versione di openhab il pc andrà sempre tenuto acceso quindi per quello vi consiglio raspberry pi perchè raspberry è una schedina del cavolo la buttate dentro un cassetto dietro il modem dove volete collegate l'alimentatore attaccate la porta LAN vicino al modem e siete a posto potete spegnere il computer fare quello che volete e usare i servizi che vi offre openhab altrimenti qua dovete tenere il computer sempre acceso quindi se avete un server che sta acceso la mattina o la sera vi risparmiate questi 30-40 euro di openhab ma vista la spesa vi direi, visti i problemi anche di windows vi indirizzerei sempre verso il raspberry pi anche perchè ve lo mettono in piano schermo sul sito quindi comunque una volta scaricata la versione di hypermac anche qua abbiamo sempre i dati c'è anche la guida e via così facciamo finta che vi siete installati l'openhab adesso vi faccio vedere il mio sul raspberry pi basta mettere la sulla barra degli indirizzi una volta installato sul raspberry pi o ovunque ce l'abbiate l'indirizzo openhab 2.88 oppure per chi ha come me il raspberry pi viene sempre richiamata la parola openhabian pi e quindi andate alla pagina alla pagina principale di welcome su openhab 2 vi troverete forse soltanto la metà di queste schermate quindi avrete il paper UI avrete l'home builder e avrete il rest API forse vi viene anche già integrata la basic UI ovviamente troverete subito la prima cosa vi direte che figo con l'home builder potrete inserire il numero di piani di una casa dargli un nome scegliere le icone e vi creerà una specie di system map una item map però questo file che viene generato come vediamo come vedete si compila man mano che man mano che ho compilato però cosa succede che quello che viene creato è un codice vuoto gli mancano tutti quanti gli indirizzi di gruppo gli manca il tipo di tecnologia vi manca un po' tutto quindi dopo averci perso tempo per capire come integrarlo con quello che devo fare visto che in realtà non ci serve ecco per chi ha knx quindi la prima cosa che dovete fare è quella di entrare nella paper UI e dovete andare sugli addons sugli addons dovete inserire i buildings i buildings sono questi pacchetti quelli che vengono resi disponibili su questo sito quindi poi vi perdete non è molto chiaro comunque tutti questi servizi vanno integrati attraverso questi buildings qua ne avete una valanga effettivamente non ce ne sono pochi poi vi interessa il knx eccolo qua knx building qui vi torna sul sito io ce l'ho già installato perchè mi dice di disinstallarlo io ho la versione nel mio openhab della 2.4 snapshot diciamo la beta anche se viene venduta come instabile in realtà è stabilissima una volta installato avrete nella configurazione nei buildings avete il knx buildings cliccandoci dentro vi farò vedere cosa avrete quindi il seriale il knx ip e avrete il device quindi tre cose sole potete avere l'accesso tramite interfaccia seriale tramite interfaccia ip gateway e tramite appunto il knx device che va raggiunto tramite interfaccia seriale o tramite knx ip ovviamente una volta installato questo buildings avrete i knx visto che non c'è nessuna guida per il knx ho scoperto da solo vi porto la mia esperienza a cos'è un knx un knx appunto è una cosa è una cosa in knx cos'è una cosa? sono i dispositivi knx quindi può essere l'attuatore può essere l'ip gateway come vediamo un knx una pulsantiera un ragnetto un termostato qualsiasi pezzo fisico di un impianto knx è un knx quindi dovrete inserire il knx quindi il knx il knx come vedete c'è la matita dovete mettergli tipo di connessione indirizzo ip vero e proprio la anche questi dati qua non è che sono tanto chiari dovete provare vi porto la mia esperienza quindi vi regalo un po' la mia esperienza che spero sia giusta quindi l'indirizzo fisico del ip del del raspberry fisico che in questo caso il mio io gli ho dato questo indirizzo qua nella mia rete è il raspberry quindi openhab questo è l'indirizzo che ha l'interfaccia ip non guardate le classi diverse perchè ci sono due router in cascata c'è una rete particolare a casa mia quindi vabbè fate finta che a casa vostra adesso l'indirizzo ip dell'interfaccia ip 192.168.1.200 e l'openhab 192.168.1.150 quello che volete l'indirizzo ip di rete ip poi avete l'indirizzo fisico del dispositivo anche se qua chiama come se fosse un group address ma in realtà l'indirizzo fisico dell'interfaccia ip bene poi ci sono dei dati di tempistica che io sinceramente non vado a toccare la nav dovete attivarla per sicurezza è sempre giusto attivarla e avete finito premete sul visto e vi comparirà online se lo trova nella rete quindi questo è importante ovviamente loro gli vanno a dare un nome un codice particolare 46b28 a 50 sono dei numeri che non si sa come vengono dati poi abbiamo i veri dispositivi quindi abbiamo come vediamo qua un KPNX device sempre un TINX che ti dice un dispositivo base indirizzabile KPNX dove io ho un switch che prende il canale 0.1.0 c'è due indirizzi di gruppo quindi abbiamo l'indirizzo di invio e l'indirizzo di lettura dello stato basta come vedete già da qua vedete che nella luce nella nel nel dato non ti viene messo l'indirizzo cioè la casella per mettere lo stato dovete arrivarci voi dal solito sbattendoci la testa e aggiungere questo più qui potreste scrivere la stessa cosa quindi è un po' così diciamo dovete un po' arrangiarvi e quindi una volta fatto questo avrete aggiunto appunto un canale se non è questo dispositivo qua potete appunto aggiungere altri canali se questo dispositivo in questo caso non so se questo è l'interfaccia ingressi quindi il ragnetto un attuatore sinceramente penso sia un ragnetto con l'interfaccia ingressi potete dirgli cosa che fa e siamo di nuovo qua switch switch control dimmer dimmer control roll shutter roll shutter control contatto control control number number control string string control data basta quindi spariscono valori come scenari spariscono non valori ma funzioni come scenari funzioni come termostatis funzioni come HUAC per questo OpenHAB non avrà secondo me se non aumenta la compatibilità con il mondo KNX non avrà diciamo lunga vita ecco cercherò altra alternativa o comunque mi trovo direttamente a dei server KNX che si integrano con gli assistenti virtuali e tant'altro perché così sinceramente abbiamo poche cose noi di KNX quindi come vediamo abbiamo una label e il canale dovete scrivere se è l'1 sul 2 io ho il canale A come vediamo bene dopo che avrete aggiunto tutti quanti i TINX tipo in camera io ho in questo caso una non so se questo è un vediamo 1.1.4 dovrebbe essere un'interfaccia un attuatore se vado a memoria attuatore col canale A il canale B dove il canale A come vediamo fa uno switch un on off con l'indirizzo di gruppo per il comando questo è lo stato del 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 carico del canale stessa cosa per il dimmer dovremmo avere soggiorno eccolo qua dove appunto abbiamo fatto vedere che è un dimmer dovrete scrivere dovrete sempre selezionare il bridge quindi il dispositivo che vi fa cedere questo pezzo dove avremo l'indirizzo fisico al dispositivo e basta e in questo caso possiamo inserire i canali che mette a disposizione questo dispositivo quindi la stupidità qual è? quello di inserire fisicamente il pezzo nell'impianto KNX senza fermarsi come i normali server e i soli indirizzi di gruppo proprio loro vogliono ricreare l'impianto a livello hardware richiamato con gli indirizzi fisici del dispositivo non ne capisco il motivo però funziona così anche qua nel dimmer come vediamo ci vengono forniti l'indirizzo il canale per l'on-off con lo stato qua abbiamo la posizione assoluta quindi il valore di un byte 4 bit e qui abbiamo 4 bit non mi ricordo mai comunque la dimmerazione della salita discesa del valore del dimmer finito una volta dati i nomi e inseriti i canali sarà finita la configurazione avremo gli items dove appunto li andremo ad aggiungere no e gli dovremo dire i singoli items cos'è che sono e cosa fanno basta come vediamo questi items vengono generati in automatico perché non non potete far nulla se non come vediamo anche tipo il dimmer non potete far nulla se non dargli il simbolo dell'icona e ovviamente non potete neanche scegliere l'icona dovete andare a scrivere qualcosa in inglese e sperare che vi compaia un'icona in parte ecco questo è openhab una volta fatto questo avendo salvato tutto quanto e tornando alla pagina alla home page quindi anche in questo caso openhabian 8080 avrete la questo ad esempio la basic UI che vi da dei comandi un attimino ecco ecco con la basic UI avremo appunto i quattro locali che ci sono andate a creare dove avremo appunto i valori on off in questo momento stanno funzionando quindi abbiamo come dire una una pagina web dove appunto possiamo regolare i valori no? infatti vediamo che la lampadina non so se ci fate caso diventa più chiara in off leggermente giallina un giallino chiaro in base al valore del dimmer e quando arriva al 100% si accende tutta però vediamo che c'è anche il bug che è la lampadina di serie eccetera torniamo qua andiamo su soggiorno ah ok ora fanno vedere che è bianca prima non si era accorta che se la luce è è spenta però ti compare la lampadina gialla quando in realtà diventa bianca quando è spenta quindi ci sono delle piccole stupidaggini però vabbè nulla di che poi abbiamo un altro un altro si chiama VCOMMETVISU se installate client ecco qua vi compare un client simile al base che usate Ui ecco qua vediamo se ce l'abbiamo non lo trovo comunque vi compare un client dove avete le stesse grafiche una cosa figa è Labpanel Labpanel vi permette di creare la 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 ecco qua una schermata dove avrete ecco qua off ok una schermata dove avrete i comandi vari e propri con delle icone personalizzabili potete mettere anche delle foto della della vostra casa quindi se mettete un tablet ho messo delle icone grandi poi potete tranquillamente modificarlo ecco qua c'è un paio di penne che compare poi potete rimpicciolirlo un po' ad esempio ecco potete rimpicciolire il tutto dove potete modificare tutti i dati e potete anche vediamo se riusciamo ecco adesso sto rimpicciolendo un po' per farvi vedere meglio diciamo che è magnetico come delle posizioni preimpostate diciamo ecco mettiamo così lo potete appunto voce ingresso andare a modificare l'icona no l'icona di sfondo potete cambiare potete mettere anche delle immagini vostre elemento openhab ricerca appunto i gli elementi che avete inserito voi ecco e basta quindi una volta salvato eseguito vi comparirà quello che che volete voi diciamo come vediamo qua perdiamo il simbolo dell'icona che c'è un punto di domanda ma vabbè quindi questa cosa potete sfruttare questo openhab panel con l'indirizzo diretto verso un ipad fissato al muro qualche parte appunto il cliente può interagire soltanto con questo indirizzo o anche una pagina web date l'indirizzo web a un computer di qualche segretaria o qualcuno che ha la reception quindi può avere dei piccoli comandi però visto il limite di opzioni che abbiamo non so che senso abbia bene e quindi abbiamo visto l'openhab panel poi per inserire l'integrazione con HomeKit che di conseguenza ne deriva anche che Google Home riesce a sfruttarla sempre nella Paper Paper UI nella configurazione i servizi eccoli qua dovete inserirvi quelli che vi interessano intanto l'openhab cloud che vi fa avere un indirizzo al myhome al myopenhab.org anche da remoto e quindi per avere questi questi servizi sempre negli addons dovete andare nei dovrebbe essere la memoria qua sono le basi UI transformation persistence forse in MISC ecco qua in MISC avete HomeKit integration openhab cloud e l'HomeKit integration se andiamo a cliccare su HomeKit qualche parte ovviamente qua non c'è nessun link comunque andando a cliccarci vediamo se i servizi ci fanno vedere ecco qua c'è qua l'indirizzo che ci fa vedere la l'indirizzo i dati della munkit ci fanno vedere che ci viene creato un pin da loro proprio dal plugin ci viene creato un pin ci serve la porta aperta per integrazione del sistema e le uniche cose che eccoli qua che ci fa comandare con openhab il sistema onkit sono le luci poi abbiamo switchable quindi abbiamo dei dispositivi tipo qualcos'altro che è switchabile comunque luci quindi comandi di presa anche qua abbiamo colori quindi lighting e switchable sono praticamente uguali poi abbiamo la temperatura esiste attuale quindi dobbiamo mettere un item con il valore di number e poi l'umidità anche qua valore di number per quanto riguarda il termostat quindi ci fermiamo a luci e temperatura e termostat questa è l'unica cosa che ci offre openhab per l'integrazione con siri e vediamo che abbiamo la possibilità di inserire il tag termostato dobbiamo creare quindi cosa vuol dire che ci fa capire che con openhab possiamo creare un termostat creando degli items di gruppo quindi abbiamo gli items della temperatura con una stringa che in questo caso potrebbe essere un byte con le modalità hwac quindi automatico con lo 0 e gli altri valori non mi ricordo i numeri creando una stringa con il valore delle modalità caldo e freddo possiamo mettere caldo off automatico caldo freddo e basta quindi abbiamo un hwac un po' stupido con una stringa di un byte praticamente e poi abbiamo la temperatura che vogliamo raggiungere anche qua ha un valore di un number in questo caso creeremo il termostat io mi ci sono ancora messo perchè un termostat della netatmo quindi già di suo si integra con il sistema onkit e non ho ancora integrato un termostat knx ho provato una volta con una sonda esterna ma ho visto che non era immediata la cosa comunque qui abbiamo degli esempi che si possono tranquillamente sfruttare quindi una volta torniamo sul nostro openhab che è questo eccolo qua un kit ci da la porta ci da il codice che dovremmo mettere quando inseriremo l'openhab sull'applicazione di apple casa troveremo nella rete un nuovo device in rete comparirà scritto openhab e vi chiederà eventualmente questo codice qua se vogliamo mettere il termostat in 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 freddo attivo bisogna scrivere così e anche qua la stringa per caldo automatico quindi praticamente si ferma soltanto alla termoregolazione in questo caso no? e qua l'indirizio ep del openhab dove si trova come vediamo anche mettendo in in expert mode possiamo aggiungere altri parametri che dovremmo aggiungere noi ma nient'altro quindi una volta inserito questo home kit integration il gioco è fatto però bisogna aggiungere questi famosi tag questi famosi tag per aggiungerli tipo lightning switchable eccetera eccetera dovrete cambiare un po' le scatole vediamo se torniamo nel mio openhab andando adesso loro ti dicono di scriverlo sulle guide che troverete online perchè non è l'unica guida sull'openhab vi dicono di usare il terminale tramite terminale adesso ho quello aggiornato guardate che bello vi comparirà questa versione i dati del vostro raspberry pi dove installate tutto quanto però entrando nel panel di controllo non fate un gran che quindi l'unico modo per inserire questi tag è quella di andare sulla restapi se non ce l'avete installate dal paper in visualisation restapi andate su items come vedete selezionare get items e vi fa vedere tutti gli items che avete premere su tryout e vi fa vedere tutto il nostro programma quindi abbiamo in questo mio caso l'items dell'ingresso la luce eccetera eccetera io ho aggiunto questo tags parentesi quadra lightning in questo modo un kit riconoscerà che questo è una luce questo discorso anche per il dimmer sempre lightning e via così ho aggiunto praticamente il tag lightning dappertutto manca da aggiungere la parte di termoregolazione però mi pare un po' acerba però se avete solo delle luci da comandare diciamo che è comodo quindi se siccome di serie non avete questo tag voi dovrete copiare tutto quello che è qui dentro fare un copia poi andare su input items fare un'incolla e qua nel tags inserire ce l'avrete vuoto probabilmente il tags avete due parentesi quadra e chiuse inserire tra virgolette lightning una volta fatto questo premete su try out ecco qua e quindi avrete praticamente scritto tutti questi tag nei vari items finito adesso l'integrazione con un kit è fatta riapro l'applicazione casa sul mio mac e come vedete abbiamo le luci i comandi eccetera eccetera quindi ovviamente i comandi sono leggermente in ritardo ma non in ritardo per via di Apple ma per via di openhab che comunque se andiamo qua sul basic UI andiamo a dividere la finestra andiamo a fare luce camera on come vediamo i comandi sono immediati perché parte tutto da lui però fisicamente non sempre tutto è così rapido può capitare che il comando ci sta magari anche per 3 secondi ad essere ricepito dal sistema poi una volta svegliato il sistema tutto diventa più più rapido come vediamo con Apple vi compare anche l'interruttore simpatico eccetera eccetera poi una volta fatto questo inserendo openhab come come servizio all'interno di Google che comunque vabbè sono un dispositivo d'android per mostrarvi e avrete la come si dice l'integrazione anche con Google però vi posso garantire che consigli è meglio tipo accendi piantana camera ok la piantana camera è accesa eccola qua accesa Google tante volte non è quando avete più luci all'interno di una stanza diventa un po' scemotta ecco deve ancora migliorarsi bene direi che abbiamo fatto un video di quasi un'ora no? ho cercato di dilungarmi il meno possibile però così è questo ha siccome un kit questo è un netatomo quindi Apple vede così i termostati in un unico set point in modalità caldo e freddo basta le modalità KWAC che abbiamo in KNX pare che questa domotica tra virgolette giocattolo che ci stanno imponendo i grandi leader dell'informatica come Apple e Google si devono adattare alle modalità KWAC o dovremmo noi adattarci alle loro modalità o semplicemente fermarci a dei valori set point unici tipo set point comfort ecco bene quindi vi mando alla recensione scritta che verrà legata a questo video vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale di Dadi86 questo è il canale che ho creato ai tempi quando facevo recensioni per i dispositivi Apple poi adesso ok l'ho portata anche al mio mestiere il mio canale YouTube è rimasto lo stesso anche per il mio mestiere quindi l'elettricista e anche sistemi domotici comunque se andate indietro vedete anche le vecchie recensioni Apple che facevo una volta quindi ho preferito ottenerlo però se vi iscrivete e magari cliccate anche sulla campanella delle notifiche mi aiutate appunto a essere un po' più conosciuto in rete e quindi a darmi un po' più di supporto per mandare avanti questo progetto del blog elettricistoevoluto.it e il canale YouTube quindi che è parallelo e mi supporta questo blog quindi un saluto e al prossimo video ciao